Dall'inizio dell'anno sono almeno 26 le persone morte in Polonia a causa delle basse temperature, di notte scese al di sotto dei meno 18 gradi. Nella sola notte tra il 3 e il 4 gennaio sono morte assiderate 12 persone. Di fronte alla scarsezza di servizi per i poveri, la polizia ha fatto appello ai cittadini affinché aiutino i più bisognosi.